Sama Maria, via di grazia, Signore, prezzi, tu sei benedetta, tra le donne, e benedetto il strumento di tuo Signore, Gesù, Santa Maria, Grazie. 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 Abbiamo offerto l'incenso. L'incenso che offriamo sempre all'altare per indicare la nostra preghiera, la nostra offerta che si presenta a Dio, la nostra vita che si presenta a Dio e si unisce a Dio e allora la nostra vita diventa come l'incenso, un profumo che si spalte. Ecco, Maria è spesso paragonata ai gigli, è spesso paragonata ai fiori che spaltono profumo che sono sempre di ricchezza gioiosa di vita. E allora ci auguriamo davvero che tutti noi sappiamo guardare così sempre a Maria, come a lei che ci dona il profumo della bontà, della carità e dell'amore di Dio e impariamo ad essere insieme con lei nell'offrire al Signore la nostra vita e nel partecipare all'opera di Dio che vuole la salvezza, vuole la vita di tutti i cittadini. A presto! 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 Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, 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 Ave Grazie a tutti. Grazie a tutti.